Cresce la paura nella zona di Saione, una paura che in verità permane da molto tempo. Comandante, che cosa è possibile fare in questo momento, in questa situazione, per cercare quantomeno di ridare un minimo di tranquillità ai residenti? Allora, da parte nostra, ma diciamo da parte di tutte le forze polizia, la zona di Saione, la zona di Pionta, ma anche altre zone città, vedi zona Giotto, sono quelle più attenzionate a un controllo. Chiaramente noi si chiede da parte dei cittadini che ci segnalano tutte quelle situazioni di anomalia che si possono verificare nell'arco del giorno, affinché si possa intervenire. Si sta estendendo un po' la zona dello spaccio? Sì, non è più la zona, diciamo, del parco Pionta interessata. Infatti, noi si può verificare che lo spaccio si sta spostando anche in altre zone della città. Queste azioni criminose, dove possono trovare terreno fertile? Su tutte quelle persone che al momento sono in difficoltà economiche e non stanno lavorando, quindi si possono verificare anche una convivenza sulla criminalità locale. E quindi l'area, diciamo, di spaccio, oltre che essere ampliata, può interessare anche persone di nazionalità diverse, non solo estracomunitarie, possono essere anche italiani. La nuova sede della Municipale in via Fabio Filzi potrebbe dare una mano ad affrontare i problemi e a risolvere anche alcune situazioni? Certamente io aspico l'arrivo lì in via Fabio Filzi affinché il nostro intervento possa essere più veloce.